Giovedì 22 giugno 2017. È il 173esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del cancro. La chiesa ricorda San Flavio Clemente. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Flavio. Accadde oggi. Il 22 giugno del 1983 scompare a Roma in circostanze misteriose Emanuela Orlandi, cittadina vaticana. Quella che all'inizio poteva sembrare la normale sparizione di un adolescente diventa presto uno dei casi più oscuri della storia italiana, che coinvolgerà lo Stato Vaticano e Italiano, lo IOR, la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi paesi, in maniera a tutt'oggi non ancora risolta. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri all'attrice americana Meryl Streep, nata a Summit, il 22 giugno 1949. La citazione del giorno. È un vero peccato che tutte le persone che sanno come far funzionare il paese siano troppo occupate a guidare taxi o a tagliare capelli. George Burns. Dice il saggio. Una vita dura una generazione. Il buon nome per sempre. Proverbio giapponese. La parola preziosa. La parola di oggi è turlupinare. Questo verbo significa raggirare, ingannare, approfittando della buona fede o ingenuità altrui. È una parola di origine francese e deriva dal nome di un attore comico del 600. Turlupin. Noto per le beffe di cattivo gusto e le battute maliziose. La parola di oggi è chiaro. Talia. La parola di oggi è un altro appigliare tipico.